ciao ragazzi benvenuti in questo nuovo video della tutto tech nel video di oggi sezione bimbi non so chi indicare andremo a presentare un altro accessorio che può semplificare nel quotidiano l'utilizzo del nostro bimbi quindi passo la parola a tania che ci presenterà questo accessorio che non è originale ci teniamo a specificarlo ma che potete trovare tranquillamente su amazon acquistarlo e utilizzarlo quotidianamente qui sotto vi lasciamo il link in descrizione questa sera vogliamo presentarvi questo accessorio qual è la sua utilità intanto si chiama otto mitra e serve per canalizzare il vapore del nostro bimbi verso una fonte ad esempio la finestra piuttosto che nonima piuttosto che la porta finestra proprio perché tante volte abbiamo il nostro bimbi sotto i nostri pensili della cucina e quando funziona quando è in funzione il vapore giustamente sale verso l'alto noi abbiamo questa esigenza è proprio una reale esigenza di tutti i giorni per cui abbiamo deciso di provare e vedere come funziona il nostro otto mitra un'altra cosa volevo aggiungere questi prodotti sono compatibili con quasi tutti i modelli di bimbi comunque quando andate sul sito troverete l'indicazione dei modelli di bimbi con i quali è compatibile la cosa importante è che nel nostro caso noi utilizziamo i bimbi fuori dalla portata del vapore che vada sotto il pensile però avendo la finestra qui vicino vogliamo indirizzare il vapore ancora di più verso la finestra perché comunque qui sopra abbiamo delle lampade che scendono e che il vapore vada direttamente sulla lampada per la vita della lampadina non è il massimo quindi anche in questo caso vi suggeriamo questo accessorio come eventuale utilizzo perché potrebbe sembrare una cavolata mentre invece adesso vi faremo vedere azionando il bimbi il funzionamento dell'accessorio andiamo a provarlo andiamo vediamo cosa c'è nella confezione si tratta di un deviatore di vapore che va posizionato al posto del misurino va a fare una sorta di tappo aderisce perfettamente al buco del nostro coperchio a seconda della destinazione lo vuole lo indirizziamo noi indirizziamo verso la finestra lo indirizziamo così come potete vedere è allungabile se vi servono quei 5 centimetri più sono a disposizione facciamo partire il nostro bimbi e vediamo ecco come il vapore viene deviato dalla parte superiore a quella laterale e in concomitanza di una finestra aperta non andiamo a rovinare i nostri pensili siamo tornati in questa inquadratura un po più vaporosa allora come avete visto il prodotto funziona perfettamente devia il flusso del vapore dalla parte sopra a quella laterale e questo per salvaguardare i vostri pensili o per dirigere il getto verso una finestra una porta finestra o comunque una fonte d'aria più vicino esatto preserviamo i nostri mobili la sua funzione per noi la fa quindi super approvato fateci sapere se anche voi lo avete se lo utilizzate quali sono i vostri dubbi cercheremo di rispondere alle vostre domande e ragazzi vi lasciamo qui sotto il link in descrizione se acquistate tramite il nostro link ci date una grossa mano intanto guardando il video mettendo un mi piace magari scrivendosi anche al canale attivando la campanella ci supportate veramente tanto e in più se acquistate tramite il nostro link amazon ci riconosce una piccolissima percentuale a voi costa zero e a noi invece aiuta tanto perché ci dà la possibilità di reinvestire questi soldi per presentarvi nuovi accessori vi ricordo che il prodotto in questione è l'otto mitra trovate qui sotto il link di descrizione il prezzo attualmente di 16 euro e 15 e c'è anche la possibilità di applicare un coupon sconto di un ulteriore 10 per cento quindi con 15 euro circa vi portate a caso un accessorio che stiamo scoprendo essere veramente veramente favoloso esatto bene ragazzi io direi che per questo video tutto e ci vediamo al prossimo alla prossima ciao